L'economia italiana subirà un colpo di freno nel 2024 per poi accelerare nell'anno successivo. L'inflazione avrà nello stesso periodo un percorso decisamente più benigno rispetto ai picchimisti nell'ultimo biennio e quanto emerge dalle stime economiche aggiornate di Banca d'Italia per il triennio 2023-2026. Il quadro macro considera la manovra di bilancio 2024-2026 e l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU basandosi su PNRR. Per contro l'analisi prospetta, a causa del rialzo dei tassi, un irrigidimento delle condizioni monetarie e creditizie.